ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video realizzeremo insieme una piccola borsa tracolla è un progetto semplice adatto anche le principianti che si può adattare a qualsiasi misura iniziamo subito vedendo quali materiali ci servono un ago con una cruna abbastanza grande un paio di forbici uncinetto numero 62 anellini io ho scelto questi con l'apertura e per quanto riguarda il cordino ho optato per il chobin di tessiland come potete vedere a un cordino abbastanza spesso molto elastico questo tipo di cordino è adatto a borse a rete quelle per la spesa per intenderci e agli accessori che richiedono una certa elasticità io personalmente lo vedo bene anche per un puff ma iniziamo subito iniziamo come sempre dal nostro nodino e carichiamo 20 catenelle molto morbide perché come vi dicevo questo cordino è elastico ecco le nostre 20 catenelle di base ora andremo a lavorare alle estremità quindi alla prima e all'ultima quattro maglie basse mentre nel mezzo lavoreremo una maglia bassa su ogni catenella sottostante per iniziare aggiungiamo una catenella entriamo nella seconda dall'uncinetto e facciamo due maglie basse quindi questa è la prima e questa è la seconda ora lavoreremo una maglia bassa in ogni catenella siamo arrivati all'estremità e andiamo a lavorare come avevo già accennato quattro maglie basse nello stesso punto perché dobbiamo andare a voltare il lavoro a girarlo scusate per lavorare poi anche da questo lato quindi due man mano giriamo 3 e 4 ed ora nuovamente una maglia bassa in corrispondenza di dove l'abbiamo lavorata nell'altro lato quindi entriamo qui questo è per creare una piccola base della nostra borsa continuiamo fino all'ultimo punto dove invece lavoreremo due maglie basse perché le prime due le abbiamo già fatte abbiamo così concluso il nostro primo giro d'ora in poi andremo a lavorare tutto a mezze maglie alte prendendo sempre solo la stanghetta più esterna rispetto a noi quindi non lavorando entrando sotto alle due stanghette del punto ma prendendo solo il retro e lavoreremo a spirale motivo per il quale avremo bisogno anche di un marca punto mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio ma inserisco all'interno dell'info box quindi carichiamo il filo entriamo nel retro della maglia e lavoriamo una mezza maglia alta inseriamo il nostro marca punto sempre all'inizio del giro quindi questo segnerà sempre l'inizio del giro e continuiamo per tutti gli altri 43 punti perché noi abbiamo e avremo sempre 44 maglie tutti i giri successivi dal da adesso in poi saranno lavorati così quindi lavorando in costa retro qua sempre mezza maglia alta dobbiamo proseguire in questo modo lavorando a spirale fino a raggiungere l'altezza che desideriamo per la nostra borsa perché questo progetto si può adattare a qualsiasi cordino ea qualsiasi grandezza se ne volete una più larga dovete semplicemente montare più catenelle di base per il resto si lavora a spirale prendendo il punto sul retro e non tutto insieme terminati 12 giri di mezze maglie alte ecco come si presenta il nostro lavoro come potete vedere ho inserito alcuni marca punto ora vi spiegherò nel dettaglio allora questo qui è un colore diverso quello dell'inizio del lavoro del giro scusate mentre ho posizionato temporaneamente due marca punto alle estremità per dividere in 22 maglie da un lato 22 dall'altra ho individuato poi la metà di ogni lato quindi l'undicesimo punto e ho posizionato un marca punto a 5 maglie di distanza dall'undicesima quindi dalla nostra metà e 5 dall'altra fatto esattamente la stessa cosa nell'altro lato questo perché perché ora creeremo quelli che sono i manici quindi eliminiamo i marca punto che non servono che sono quelli delle due estremità e proseguiamo la lavorazione lavorando come abbiamo fatto finora mezze maglie alte finché non arriviamo al marca punto del manico siamo quasi arrivati al marca punto continuiamo lavorando le mezze maglie alte ecco c'è il primo marca punto lo togliamo facciamo la nostra solita mezza maglia alta e andiamo a realizzare catenelle volanti quante sono le le maglie che si trovavano in mezzo ai due marca punti in questo caso sono 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e carichiamo il filo e entriamo sul retro della maglia e continuiamo a lavorare le mezze maglie alte fino ad arrivare all'altro marca punto dove poi faremo esattamente la stessa cosa ecco qui abbiamo realizzato i nostri due manici ora proseguiamo con un altro giro di mezze maglie alte lavorando sempre come abbiamo fatto finora nella catenella sulla parte retro quindi sempre per creare per questo bordino e lo facciamo anche nella parte delle catenelle volanti a questo punto possiamo procedere con la chiusura della nostra borsa avendo però lavorato in tondo senza mai chiudere il giro ci ritroviamo con questo scalino togliamo il marca punto e andiamo a lavorare ancora qualche mezza maglia alta perché preferisco chiudere la borsa qui nell'angolo dove poi agganceremo i nostri gancetti e quindi non si vedrà la chiusura quindi facciamo una 2 poi facciamo invece di una mezza maglia alta facciamo una maglia bassa e infine sempre qui è prendendo la solina più esterna rispetto a noi quella più lontana una maglia bassissima alla maglia bassissima scappato riagganciamo il marca punto se lo riesco a prendere e facciamo tutto un giro di maglie bassissime quindi continuiamo in questo modo senza tirare troppo perché ricordiamoci che abbiamo un cordino elastico altrimenti tirerebbe troppo la chiusura della nostra borsetta e finiamo con questo con questo giro scusate di maglie bassissime terminato il giro di maglie bassissime ecco che la nostra borsetta è completata possiamo quindi applicare i gancetti se ben vi ricordate avevano l'apertura in questo modo quindi li possiamo applicare o facendoli passare nelle maglie della parte superiore oppure nei lati insomma a piacimento li mettete dove volete ora dobbiamo procedere con la parte della tracolla per la tracolla non c'è un numero fisso di catenelle da rispettare semplicemente andrete a creare una serie di catenelle lunghe tanto quanto la misura che desiderate abbia la la vostra tracolla non c'è uno schema da rispettare non devono essere numeri pari o dispari di maglie quindi semplicemente andata a montare il numero di catenelle che ritenete più opportuno io ne farò una serie fino a raggiungere circa un metro un metro e dieci dopodiché andremo semplicemente a lavorare le nostre catenelle in tondo quindi così come avevamo fatto all'inizio che avevamo montato le nostre catenelle poi avevamo lavorato se ben vi ricordate negli angoli per girare in questo caso andremo a lavorare nella parte degli angoli tre catenelle in questo modo montiamo le catenelle che ci servono per raggiungere la lunghezza desiderata così come vi dicevo poi alla seconda dall'uncinetto cominciate a lavorare le maglie basse ne lavorate due per quanto riguarda il primo il primo punto poi lavorate le vostre catenelle e una volta che arrivate all'altra estremità ne lavorate tre adesso ve lo faccio vedere così in modo nella versione piccola per intenderci così che ci stia tutto nello schermo poi facciamo quindi una poi 23 e torniamo poi all'altro angolo dove abbiamo iniziato ne abbiamo fatte due quindi andremo a fare semplicemente una maglia bassa e chiuderemo quindi vedete qui sono già raggiunto chiaramente perché erano poche erano poche maglie e andremo a chiudere qui in questo modo avremo la nostra tracolla che agganceremo da una parte e dall'altra facendolo passare in questo modo adesso chiaramente avendolo fatto piccolo non è che si che rende bene l'idea chiuderemo in questo modo da una parte dall'altra andando a cucire la nostra tracolla ci vediamo alla fine del nostro lavoro ecco qui la nostra borsetta è terminata come vedete un progetto facile e veloce da realizzare vi lascio con una serie di foto come sempre così da rendere un po meglio l'idea del progetto prima di farlo però volevo dirvi giusto due cose la prima è che vi consiglio di foderarla quindi di inserire all'interno una tasca tanto come vedete basta fare un rettangolo può essere sia in tessuto o in pannolenci poi basterà cucirlo qui al limite di dove abbiamo le nostre maniglie la seconda cosa è che questo progetto si può adattare a qualsiasi tipo di cordino quindi invece di farlo con il ciobin lo potete fare con un cordino swan esattamente la stessa cosa lo potete adattare a qualsiasi grandezza perché come avete visto basta partire da una serie di catenelle fare il piccolo fondo e poi lavorare tutto a spirale quindi veramente si adatta a qualsiasi formato e a qualsiasi cordino anche la parte relativa alla tracolla se avete volete farlo ad esempio con la spiga rumena non c'è nessun problema adattate la tracolla a vostro piacimento e la agganciate dove preferite o in alto o sui lati della borsa anche più sotto insomma è veramente un progetto che si può adattare a piacimento vi aspetto al prossimo video a 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